ciao a tutti anime bentornati sul mio canale qui su quinta dimensione letture e con questo particolare appuntamento che dedichiamo proprio alla nostra crescita spirituale ma anche personale dedicato alla serie di video chiamata i sette raggi e cinque raggi occulti oggi andiamo con il sesto raggio oro rubino per chi interessa si guardi nella playlist di questo canale anche tutti i video degli altri raggi che metterò a mano a mano quindi poi quando saranno finiti ci sarà proprio tutto tutto il programma completo e finito che si può fare che ogni chela che ogni studente può fare da sé in autonomia e vi ricordo l'importanza proprio di tutto questo questo è un lavoro perché moltissimi mi chiedono sia qui nel canale ma anche in privato che lavoro può fare che cosa può fare questo è uno di quei lavori che è diciamo è neutro e standard va bene non te lo deve dire qualcuno che va bene per te questo lavoro va bene questo lavoro qui è un lavoro così grande così alto e così di luce che va bene e punto non serve l'opinione alcuna di nessuno invito tutti quanti quelli che ancora non l'hanno fatto è iscriversi al mio canale attivare la campanellina cliccando su tutte per ricevere appunto anche tutti gli aggiornamenti che farò su questo canale così ricevete le notifiche e non vi perdete nessun video allora cominciamo oggi con questo nostro raggio particolare come vedete ho tre colori mischiati insieme perché l'oro rubino è proprio un colore che verte verso l'arancione come questa questa tovaglietta qua che non so se si vede dalla luce del video ma è sull'arancione arancione scuro mischiato all'oro e mischiato al rosso proprio l'oro rubino i contenuti che prendo sempre da questi raggi sono della editrice italica chi vuole si può acquistare proprio le pubblicazioni di questa casa editrice uno è questo le meditazioni quotidiane questo è il primo libricino e il secondo è questo i sette raggi e cinque raggi occulti più nuovo come uscita ma è sempre valido comunque sono validi anche quelli usciti prima e altri libri che ci parlano dei raggi appunto come avevo già indicato in altri video uno è tutto diciamo il telos 4 che fa parte di tutta la serie proprio di libri di telos dove anche laurelia louis jones parla delle sette fiamme sacre poi abbiamo la base cioè quella che proprio è la base che è la metafisica questi sono un condensato di due volumi in uno qua e due volumi in uno su quest'altro libro la metafisica di conny mendels che vi spiega proprio cos'è la metafisica in modo molto semplice molto chiaro molto facile per tutti veramente una buona lettura quando non sapete che cosa fare potete comunque introdurvi su certi argomenti metafisici proprio attraverso questi libri questo è il volume 1 e questo è il volume 2 ma sono quattro volumi praticamente insieme allora vi vado come sempre come in tutti i video a parlare dei raggi ma prima vi ricordo la playlist delle note tonali che fa parte del lavoro ok non c'è recitazione di raggio senza doverla accompagnare con la sua nota tonale che è proprio la vibrazione più adatta a quel raggio a quel colore e agli esseri che lavorano in quel raggio ricordo ancora una cosa che non smetterò mai di ricordare che il raggio va bene in quel giorno ma il raggio esiste sempre va bene quindi non ci preoccupiamo di questo se un giorno siamo richiamati anche da un altro raggio oltre al raggio del giorno fatelo fatelo perché magari con quel raggio dovete lavorare di più dovete sviluppare ognuno di noi ha dei raggi comunque che gli sono più consoni e altri su quali invece deve lavorare di più seguite molto come dico sempre nei percorsi di crescita spirituale seguite proprio quello che vi sentite con i colori con i raggi bene rispettare il raggio del giorno perché in quel giorno è più attivo e qui è sicuro però insomma oltre quello se avete in particolare grazia un altro raggio che vi richiama tantissimo o qualche essere di quel raggio che vi richiama tantissimo o il colore stesso di quel raggio che vi richiama tantissimo va bene se ti richiama va bene non c'è problema però ricordati sempre di onorare diciamo il raggio del giorno allora nella descrizione trovate il link diretto da cliccare per tutte tutta la serie di video dei sette raggi e la playlist di quel raggio in ultimo ricordo che i decreti sono più lunghi quindi sotto la descrizione del video non ci stanno per lunghezza ve li metto nel mio sito web www.quintadimensioneletture.it trovate anche nella descrizione del video anche il link perché si vuole leggere sia insieme a me o da solo poi successivamente tutti i decreti dall'inizio alla fine va bene quindi detto questo vi raccomando guardate la descrizione del video è perché senza quello poi il raggio non è completo c'è del lavoro da fare anche lì allora partiamo intanto dal primo libricino da qua da questo qui meditazioni quotidiane vi ricordo editrici italiche a chi vuole lo acquista per contenuti ovviamente più completi non posso leggere il libro intero anche per questioni di copyright io vi indico qual è la lettura migliore che voi potete fare possiamo prendere dei contenuti ma non è che possiamo dirli tutti quindi non va bene neanche no perciò chi ha intenzione di approfondire si acquisti i libri investa su questo anche questo significa avere e fare un lavoro personale e spirituale va bene allora scusate no prima di partire vi devo ricordare gli esseri del raggio e le note tonali tutto quanto quelle cose lì insomma quelle che sono più consone proprio ad oggi appunto il sesto raggio quindi oro rubino le caratteristiche di questo raggio che abbiamo detto è oro rubino che verte verso l'arancione ma con delle note e punte di rosso ma anche di oro ha come virtù caratteristiche la pace la provvidenza la prosperità l'abbondanza la devozione il misticismo la grazia la rinuncia la rinuncia al frutto dell'azione ideale tenacia intuizione lealtà fedeltà allo scopo riverenza tenerezza e amorevolezza poi abbiamo il chakra corrispondente di questo raggio che è il chakra del plesso solare ok terzo il giorno della settimana in cui è più attivo questo raggio è il venerdì il chohan quindi come diciamo sempre in tutti i raggi il direttore del raggio è il maestro asceso giovanni lamato precedentemente prima di lui era la maestra ascesa a lei di nada gli elohim sono tranquillità e pacifica gli arcangeli sono urie e grazia gli aromi il ginepro e il sopo le pietre sono il rubino il granato il diasporo rosso e la pirite no per esempio questo il diasporo rosso questo qua aspettate un attimo questo è per chi magari non l'ha mai vista che sono meno conosciute questo è un granato non so se si vede bene è un diciamo sì un rosso un po sullo scuro granato poi abbiamo altre pietre il diasporo rosso per esempio come ci diceva qua la pirite va bene la pirite queste sono pietre andare di quinta dimensione comunque no il red warrior la sanded helios cioè sono comunque tutto quello che è in vibrazione in risonanza va bene va bene anche se non è comunque proprio la pietra adatta se ce l'avete ecco tipo il diasporo rosso questo qui questo è un diasporo rosso puro se ce l'avete ovviamente mettete il diasporo rosso oggi cioè quando è venerdì perché no no però diciamo se non c'è il diasporo rosso ma c'è una pietra che a livello proprio di di colore richiama alla fine no va bene perché non è che abbiamo tutte le non è che abbiamo in casa il negozio tutti quanti no quindi ecco cosa possiamo fare per incrementare appunto queste qualità questi raggi non so se ho detto la nota la nota è il re ok per questi raggi cosa possiamo fare indossare per esempio il colore va bene quindi arancione oro oro rubino rosso eccetera eccetera che richiamano proprio quella quella tonalità del raggio di quel giorno possiamo accendere gli incensi con quegli aromi lì possiamo mettere e far fumare gli oli essenziali con quegli aromi là va bene quindi sono tante cose vestirsi soprattutto richiama molto una maglia i pantaloni ma anche solo un oggetto tipo che ne so il foulard per esempio attorno al collo ecco anche il particolare va bene non per forza solo l'abbigliamento il particolare anche un foulard magari di quel colore può andar bene oltre ad indossare le pietre addosso o in tasca e come volete voi e tantissimo fa ascoltare le note tonali di quel raggio le note tonali perché vi collega a livello vibrazionale anche con gli esseri di questo raggio va bene allora abbiamo detto e spieghiamo anche abbiamo detto quali sono le virtù le caratteristiche il chakra eccetera adesso andiamo a spiegare il proprio chocan che giovanni l'amato vi ricordo di quelli che ho foto di cui si ha foto in generale ve la metto e se non c'è la foto non vuol dire che non c'è allora partiamo giovanni l'amato fu il discepolo più intimo di gesù il più amato ed è il discepolo con maggior comprensione della presenza io sono e delle leggi superiori a lui è attribuita alla scrittura del libro l'apocalisse allora vediamo un po qualcos'altro su giovanni perché vi ripeto il libro bisogna acquistarlo chi vuole sempre giovanni sviluppò la maestria nel magnetizzare l'amore divino ed irradiarlo appunto anche lui ha la sua nota tonale va bene poi abbiamo ledinada appunto come dicevamo che era la precedente maestra scesa quindi adesso comunque abbiamo la troviamo anche qua anche nel sesto raggio oro rubino e si occupa della pace della tranquillità della rinuncia dell'abbondanza della guarigione della devozione intelligente è una messaggera degli dei meru e ricevete un allenamento proprio in questo tempio che è il tempio dell'illuminazione sul lago titicaca è un essere del terzo raggio appunto ma svolge una funzione anche nel sesto raggio ha una grande storia alle spalle edinada c'è una storia lunga che vi potete leggere cercare anche il libro sempre dell'editricità di car sull'edinada anche lei ha il suo decreto che poi faremo gli elohim che sono tranquillità e pacifica e sono proprio gli elohim del sesto raggio oro rubino le loro attività sono la pace e la somministrazione e sostengono proprio la fiamma cosmica della pace nel pianeta terra c'è anche un esercizio di respirazione che possiamo fare per trovare la pace interiore poi lo facciamo e con questi due elohim fantastici va bene allora poi arcangeli abbiamo gli arcangeli uriel e grazia la loro attività consiste nel somministrare a tutte le evoluzioni appartenenti alla terra ogni cosa necessaria per evolvere li possiamo invocare anche sia uriel che l'arcangelina grazia ogni volta che abbiamo bisogno di prosperità proprio di denaro di pace di guarigione tra l'altro la signora grazia proprio porta il magnifico regalo della grazia divina e questi amati arcangeli ci aiutano ad aumentare la fiamma della pace e della grazia proprio nel nostro campo energetico nel nostro campo aurico allora lord suria che è un essere cosmico un grande essere cosmico che sostiene un'immensa radiazione di pace per il pianeta e si sa di lui che fu un sacerdote proprio dell'antica lemuria e sosteneva il collegamento di luce per l'arrivo delle nuove sottorazze della terza razza che dovevano incarnare in quel periodo e poi venne sulla terra come guardiano della razza umana poi abbiamo la dea della pace che rappresenta e sostiene la virtù della pace per il pianeta terra tornò nell'atmosfera terrestre il 19 maggio del 1938 insieme alla dea della libertà per prestare proprio un servizio congiunto poi abbiamo il maestro gesù che è un essere di altissima evoluzione uno dei più grandi maestri che abbiano mai calpestato la terra amato dalla maggioranza dell'umanità è stato proprio lui l'avatar come adesso lo è san germain per questa settima settimo raggio di questa nuova età dell'oro gesù è stato l'avatar dell'era dei pesci l'era proprio del raggio oro rubino adesso siamo nell'era invece del raggio viola del settimo raggio che faremo il prossimo gesù lo era in quello precedente in questo di cui stiamo parlando oggi va bene del raggio oro rubino che è il sesto raggio allora vediamo ancora il maestro babaji che è un misterioso maestro conosciuto come l'immortale dell'himalaya lo collochiamo nel sesto raggio per una questione di ordine pedagogico ma in realtà è un essere che ha raggiunto un'evoluzione cosmica quindi ancora proprio anche di più babaji è in costante comunione con il cristo planetario maitreya e ora anche kutumi è il cristo planetario kutumi del secondo raggio insieme trasmettono al mondo le loro vibrazioni redentrici e hanno ideato la tecnica spirituale destinata a portare la salvezza nella nostra era e fu proprio anche il fondatore del lignaggio del kriya yoga per lui abbiamo poi un mantra per collegarci con questo maestro che poi vi dico poi abbiamo mahatma gandhi altro grande maestro che ora è un maestro asceso dopo il servizio della trasmissione della fiamma che ha avuto luogo il 19 aprile del 1953 gandhi si è presentato alla camera del consiglio del maestro e il moria che è il maestro del primo raggio il maha chokhan descrive mahatma gandhi come un uomo la cui luce ha benedetto l'india e che ora ha una presenza maestosa serena degna e non molto differente a quella di gautama buddha la maestra ginevra che è la guardiana silenziosa della potente città svizzera che porta il suo nome è una madre divina della pace e dell'unità mondiale forma parte del grande campo di forza delle alpi poi maestri etos e olivenia che sono due grandi maestri di marte e completamente i complementi divini da marte irradiano dei potenti raggi di pace e devozione intelligente spiegano questi due grandi maestri di marte che il pianeta marte al contrario di quello che si dice sulla terra è un pianeta di pace e che viene erroneamente chiamato il pianeta rosso in realtà la sua radiazione è oro rubino di pace questi due maestri dirigono su marte un potente tempio della pace solare dal quale inviano gli angeli della pace sulla terra avete quanto grande aiuto c'è proprio dagli esseri cosmici maestri ascesi eccetera allora adesso che vi ho indicato chi sono gli esseri partiamo con i decreti vi ricordo nel sito web la lista completa di tutti i decreti di questo raggio e adesso partiamo proprio a leggerli quindi facciamo come sempre un bel respiro mettiamo anche le note tonali mi raccomando andate a vedere la playlist delle note tonali c'è il link in descrizione di questo video li possiamo fare con sottofondo le note tonali noi sopra decretiamo va bene oppure le facciamo a parte le due cose ma tutto ci aiuta a connetterci allora venerdì quindi sesto raggio oro rubino della pace grazie a guarigione e provvidenza amata presenza di dio io sono in me ti amo e ti adoro espandi in me in questo giorno la tua fiamma oro rubino affinché sia una benedizione per ogni cellula del mio corpo fisico e per tutti i poteri della natura che mi servono così bene fa che ogni cosa che tocchi l'orlo del mio mantello percepisca il tuo amore la tua pace e la tua perfezione poiché io sono la presenza della benedizione ed io benedico amato Gesù ti amo ti benedico e ti ringrazio per tutto quello che significhi per me e per tutta l'umanità caricami con la coscienza e l'amore dell'asceso Gesù Cristo con la luce che mi guida per seguire il tuo incomparabile esempio amato Giovanni il discepolo amato ti amo ti benedico e ti ringrazio per il tuo grande servizio alla terra mantienici sigillati nel potere del sesto raggio che sana ama e benedice la liberazione di tutta la vita amato Uriel ti amo ti benedico e ti ringrazio per l'amore che fai fluire verso di me e verso tutta l'umanità mantieni mi avvolto nella tua potente fiamma rubino che sana benedice e libera tutto ciò che contatta amato Uriel ti amo ti benedico e ringrazio te e il mio angelo custode per la negazione dimostrata nei miei confronti da tempi immemorabili aiutami ad agevolare il compito del mio angelo custode fa in modo che io non abbia mai deviare dal sentiero della purezza armonia e felicità amata presenza di Dio io sono in me e in tutta l'umanità amati Gesù Giovanni Nada Uriel mio angelo custode e tu grande Elohim della pace vi amo vi benedico e vi ringrazio nel nome di tutta l'umanità per il servizio che avete dato al nostro pianeta nel corso dei millenni accendete 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 le vostre fiamme cosmiche d'amore grazia provvidenza guarigione e pace in me e fate in modo che irradiando attraverso di me possano benedire aiutare ed armonizzare tutte le persone che avrò modo di contattare grande Elohim della pace avvolgi tutti i miei sforzi costruttivi nella tua grande fiamma di amore e pace fai risplendere la tua fiamma di pace come mille soli nella mia mente nei miei sentimenti e in ogni essere vivente in questo universo e in tutti coloro che vi abiteranno in futuro mantieni l'accesa fin tanto che la pace e la buona volontà siano diventate una vivente realtà per sempre sostenuta e in continua espansione sul nostro pianeta ti ringrazio e ti sono grato ora un decreto di giovanni lamato dove dobbiamo prima pensare che attraverso i nostri corpi inferiori risplende la fiamma violetta quindi pensiamo la fiamma violetta che attraversa i nostri corpi e veicoli inferiori e pronunciamo questo amato corpo mentale togli ogni resistenza alla divina perfezione amato corpo emozionale togli ogni resistenza alla divina perfezione amato corpo fisico togli ogni resistenza alla divina perfezione amato corpo fisico togli ogni resistenza alla divina perfezione amati corpi inferiori liberatevi ora da ogni resistenza alla divina perfezione amati corpi inferiori espandete 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 la divina perfezione attraverso di voi nel nome della divina presenza io sono invoco i raggi della guarigione attraverso l'amore di ledinada affinché siano canalizzati nelle mie mani e portino amore e guarigione a tutto ciò che tocco con esse respiriamo profondamente ripetiamo tre volte nel nome di gesù cristo pace acquietati e sappi che io sono dio nel nome di gesù cristo pace acquietati e sappi che io sono dio nel nome di gesù cristo pace acquietati e sappi che io sono dio io sono la pace dell'elo in tranquillità io sono la sua completa espressione io sono la pace dell'elo in tranquillità io sono la sua pace cosmica io sono la pace dell'elo in tranquillità io sono il suo potere cosmico io sono la pace dell'elo in tranquillità ed egli duplica questa pace attraverso di me ogni ora. Io posso precipitare e precipito tutto ciò che desidero. L'interiore conosce la perfezione e ha precipitato l'esteriore. Potente presenza io sono, libera per me adesso, attraverso il potere dell'amore divino, questo denaro che richiedo per il mio uso. Io sono la presenza attiva di tutti i canali di distribuzione di tutte le cose che agiscono per il mio bene. Ti ringrazio padre per la mia vita e per il mio corpo fisico, lo strumento più meraviglioso dell'universo. Adesso io comando che ogni cellula, atomo, ghiandola, muscolo, organo e funzione del mio corpo, accettino la fiammeggiante luce della mia presenza di Dio che sana, eleva e integra questo tempio del Dio vivo. Ti ringrazio per il mio corpo puro e ben equilibrato. Amato Cristo, io ti benedico, dammi pace, pace e più pace. Pace, 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 acquieta il mio mondo emozionale. Io sono un esempio risplendente della pace di Dio per tutta la vita. Io sono un esempio risplendente della pace di Dio per tutta la vita. Io sono un esempio risplendente della pace di Dio per tutta la vita. Amato Arcangelo Uriel, somministra ora nelle mie mani tutta la sostanza denaro e dieci volte di più di quanto io abbia bisogno per questa situazione. Amato Uriel, Arcangelo della prosperità, aiutami a conoscere e ad intendere le leggi della prosperità per manifestare abbondanza di ogni cosa buona, pura e perfetta nella mia vita. Grazie Padre Madre. Io sono la pace dell'Arcangelo Uriel. Io sono la sua completa espressione. Io sono la pace dell'Arcangelo Uriel. Io sono la sua pace cosmica. Io sono la pace dell'Arcangelo Uriel. Io sono il suo potere cosmico. Io sono la pace dell'Arcangelo Uriel ed egli duplica questa pace attraverso di me ogni ora. Amata Dea della pace, dammi pace, pace e più pace. Carica il mio mondo emozionale e mentale con la pace cosmica. Grazie Padre Madre. Io sono la resurrezione e la vita. Io sono il cammino, la verità e la vita. Io sono la luce che illumina ogni uomo che viene al mondo. Io sono la porta aperta che nessun uomo può chiudere. Conoscete la verità ed essa vi renderà liberi. Io sono sempre con te. Io sono la luce, il cammino e la verità. Io sono la resurrezione e la vita. della guarigione in azione dell'amato maestro asceso Giovanni Lamato dentro il mio essere e nel mio mondo oggi. Io sono, io sono, io sono la resurrezione e la vita della guarigione in azione dell'amato maestro asceso Giovanni Lamato dentro il mio essere e nel mio mondo oggi. Io sono, io sono, io sono, la resurrezione e la vita della guarigione in azione dell'amato maestro asceso Giovanni l'amato dentro il mio essere e nel mio mondo oggi. Molto bene, questi erano i decreti del sesto raggio oro rubino che trovate nel sito web completi e vi ricordo la playlist delle note tonali dove c'è sempre il link nella descrizione del video per andare ad ascoltare le note tonali così siamo più in connessione con quello che è questo raggio di oggi. Vi ricordo appunto queste cose molto importanti nell'abbigliamento, negli aromi appunto anche nell'indossare le pietre corrispondenti, tutte queste cose qua. Vi ricordo veramente molto importante per chi vuole veramente arrivare ad un livello veramente superiore proprio di lavoro personale molto importante perché ci vuole molto tempo. Meglio iniziare ecco meglio iniziare perché sono molto lunghe queste strade a volte anche impervi a volte ci viene voglia di fermarci ma comunque bisogna continuare anche quando no si ci sente un po così ecco quindi questo lavoro molto importante per quanto riguarda i raggi è proprio una cosa molto molto importante alla fine di questi sette raggi faremo proprio anche i cinque raggi occulti. Quindi che altro dirvi vi ringrazio di essere stati con me anche per questo video di questo raggio vi invito a guardarli tutti a sentirli ad ascoltarli a farli i vostri a sentirvi vedere anche qual è la sintonia che avete in modo maggiore con un raggio con l'altro possono essere fatti anche nei giorni diversi da quelli indicati ma rispettate comunque il giorno quel raggio quel giorno. Poi ripeto come ho detto all'inizio se vi sentite attratti da qualcosa che è in un altro raggio comunque fatelo sempre va bene? Quindi grazie ancora e vi aspetto presto con i prossimi video qui su Quinta Dimensione Letture. Grazie a tutti e a presto!